Oh! No, no, dai, ma che c***o, però... Ma, steppore, gala, c***o! Ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi su Fortnite è stata introdotta l'opzione supporto un creatore. Quello che dovrete fare è andare nel negozio oggetti e premere il pulsante in basso con scritto supporto un creatore. Dovrete inserire il mio codice, Tecnoid96. Dovrete premere su accetta e verificare che nella parte in alto a destra ci sia scritto creatore supportato Tecnoid96. Subito dopo, ragazzi, vi basterà shoppare la vostra skin. Facendo ciò, ragazzi, darete una grandissima mano al mio canale. Mi raccomando, condividete il mio codice anche con i vostri amici. Dopo averlo fatto, fate uno screen, mettetelo su Instagram, taggatemi e io vi metterò un bel cuoricino. E buon c***o per i miei miei benvenuti a questo video, come stai a me, sono Tecnoid96. Siamo tornati con un nuvissimo minigioco su Fortnite. Ragazzi, come avete visto, dalla copertina e dal titolo, ragazzi, oggi siamo in un minigioco spettacolare chiamato Temple Run. Come sapete, ragazzi, Temple Run era un gioco per telefono che era spopolato circa quando io andavo in prima superiore. Tipo nel 2011, così, era straspopolato Temple Run, che sicuramente anche voi ci avrete giocato. Che è il giochino dove c'è l'omino che continua a correre avanti, mentre dietro di lui si spaccherà tutto il suo percorso. La stessa cosa, ragazzi, andremo a fare noi. Dovremmo continuare a correre, mentre dietro di noi si spaccherà il percorso. Però il percorso che andremo a fare, ragazzi, è super mega complicato. Eccoci qua, allora, ragazzi. Questa è la parte da dove partiremo e spawneremo ogni volta che moriremo. Questo, ragazzi, è il percorso. Questo, ragazzi, è il percorso di Temple Run. Guardate che figata, ragazzi. Vai, vai, vai. Allora, tutti iniziamo da sopra il percorso. Sì, allora, ragazzi, appena la lancio qui, perché questo è il punto in cui la dovremo mettere, dovremo correre proprio, ma proprio correre come non ci fosse un domani. Perché appena esplode comincia il percorso. Ecco, quello sta già morendo ancora prima di partire. È perché sto... Vai, 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 vai. Ecco, già sbatto la testa, basta... Ecco qua, impossibile. È qua che non riesciva ad andare avanti. Eh, niente, siamo morti. Andiamo già abbastanza avanti, così... No, perché se vai avanti questi qua si... Vai, vai, andate, andate, andate. Ti muovi. Ma ci sono questi due che si bloccano sicuri o moriamo. Guardalo. Dai, ma regà... Come son passato. Corri, corri. Non ti fermare. E ora? Ah, qua. Ti devi spostare. Dai, Brio, però corri. Dai, no, Brio. Dai. Guarda, guarda te, ecco. Vai, corri, corri. Ecco, stanno loro avanti. È la fine. Dai, regà, però. Cioè, andate giù piuttosto. Ti muovi, master? No, vabbè. No, regà, no, basta. Allora facciamo che la tiriamo lì al checkpoint. Bella, master. Ma che è fatto cadere? Ma che è fatto cadere? Che sei te che vieni in mezzo. Ecco, questo, regà, è una cosa impossibile questa. Cioè... Ma no, lui mi ha fatto saltare. Qua uno. Deve, deve urlare per far quello. Ok, allora. Brio ha modificato il pezzo che era impossibile da fare. Passaggio. Via. Le sghere. Mamma mia, come lo sento che si sta spaccando. Eccolo. Corri, corri, corri. Guarda, Brio, che ha modificato anche quell'altro pezzo. Che infame. Corri. Oh, no, no, regà, è troppo... Cioè, è impossibile farlo, eh. Cioè, è impossibile farlo. Ragazzi, dopo aver passato ore e ore a provare a superare solamente il primo checkpoint, anche dopo aver modificato, purtroppo il tempo in cui si rompe il percorso è troppo veloce rispetto a noi. Perciò abbiamo deciso che lo faremo senza la dinamite, cercando comunque di correre velocemente. Vai. Let's go, Brio. Aspettate, aspettate, aspettate. Aspettate. Moby si è svegliato adesso, che chissà dove era. Ha chiamato mia madre. Vai, Brio, fin qua siamo... Siamo pro fin qua, eh. Guarda, Brio. Eeeh, vabbò. Ma mi stupisci così. Ecco, questo è il percorso... Il pezzo infame. Vai, salta. Rip. No, ma sbagliate. Rip. Rip. Vai, vi aspetto, guagno. No, ma perché non ce la faccio? Tipo quando inizia l'angolino, leggermente più avanti... Oh, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ma forse. Uh, mamma mia. Oh, ma aspetta. Eh, ciao, Brio. Non ti aspetto niente. Io qua vado avanti. Master, dov'è che sei? Avrò le porte alla star. A me non servono le porte. Io salto. Bravo. Hai fatto dire troppo forte. No! No! Che quale è la forte? Eeeh! 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 Sì. Vai, 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 vai! 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 Guarda, Brio, come fa. Ah, lui lì cammina, non salta. Eeeh, oh, Brio, te fai troppo il pro. Ti devi spostare, però, eh. Mi fai crepare, urlo, spacco il joystick. Apro le porte. Vai, vai. Oh, finalmente si è sbloccati. Qua. Mamma mia, cosa avete fatto? Che cosa avete fatto? No, ragazzi, guarda, guarda, poi vai, avanti, avanti. Guarda, poi si bugga il personaggio. Ma che cavolo. Oh. Mamma mia. Guardalo, guardalo. Oh, sembrano tutti velocizzati. Oddio. Oi, look. Ciao, master. When I see you again. Oh. No, no, dai, ma che c***o. Master, porca la c***o. Two hours later. Guarda qua, guarda qua. Buggato, flash. Vai, vai, Brio. Non aspettiamo nessuno. Vieni, vieni. Ma gli rompo il percorso. No, 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 no. Ma dove fai? Uuuh, vai, Brio. Salta. Sì, salta. Sei serio? E vieni avanti. Dritto, 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 dritto. Vai. Ah, ok, non è easy. Ma cosa No ma Doi ma che schifo Easy Ah perché dobbiamo saltare ancora più avanti Oh ce l'hai fatta No vabbè Anch'io Uh mamma mia Ah di là Uh che bello Che figata fin qua Finalmente il percorso Aia qua Qua abrio io faccio così Non mi fido Guarda master dov'è Sbrigati sbrigati Let's go Attento alla foglia Attento alla foglia Attento alla foglia Ma che fo Oh Cosa fate Cosa fate Ha rotto la foglia Ah guarda Chi è che ha visto qua Chi è che ha visto Ma no che su No dai Brio Falli il buco Falli il buco a lui Vai andiamo Andiamo No Niente niente Tu vai Ah io salto Abrio Ho già capito Ah zvenia Abrio non hai fatto niente Dai vieni vieni Pronto? Si Salta eh Tre Tre due Uno Via Uh che bello I poteri di Brio C'è qua 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 No brio dai qua no Vai vai Ma qua cos'è Qua 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 Bello Ah bello È tipo Quanto è saltato Hai visto? Aspetta che lo blocco Vi faccio il body block Ok vai 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 Ok siamo arrivati qui Vabbè qua si salta Ok Eccomi vi vedo Vai Mobi Anch'io ti vedo Guardalo Che lezzo Che lezzo Vabbè oh lui sta costruendo come un maiale Ho capito ho capito ho capito Vai Mobi Vai Uh Dal corrimano e poi devi saltare E qua E qua E poi saltare E qua E qua E destra E destra Vai a destra E ma secondo me guarda che mi becca O fallo te master No 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 guarda vai Io l'ho fatto al centro e non mi ha preso Vai ok Qua invece dal corrimano al pavimento Ma che cadono in pietro Vai 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 Siamo arrivati? È la fine? È la fine? No ragazzi Sì sì è la fine È la fine Guardalo C'è il tre buco Vai giù per il tubo 3 2 1 Let's go No regà Io non lo centro Io non lo centro Sì che lo centra Mamma mia Ormai è la fine lì eh È la fine Ma Ma neanch'io l'ho preso No vabbè io non ci credo C'è neanche stavolta Neanche stavolta Oh Basta Finalmente sono arrivato anch'io Finalmente dopo essere arrivati al traguardo Plinimessimo arrivati fino alla fine di questo video Non sono mai stato contento di dire una frase del genere Iscrivetevi al canale Attivate la campanina Regà consiglio mio Non fatelo mai questo percorso Perché vi fa rompere i joystick Vi fa davvero perdere 6 kg Solamente con la rabbia Detto ciò ragazzi Per questo video è tutto Salutate tutti Bella E ci vediamo al prossimo video Bella playerini Ciao 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 Ciao